Ciao a tutti di Restart Dolomiti, mi chiamo Grazia Losso, abito a New Jersey, però sono nata a Belluno, sono da Codisago addirittura, Codisera sempre. E per questo che con piacere vi offro il mio quadretto che si chiama Angelo del Bosco. Perché noi angeli ci credo, quelli dal cielo, quelli umani, quelli che arrivano per aiutarci quando c'è bisogno. E allora auguri a tutti, grazie a Dario e grazie a Moira e Alberto e tutti tutti voi che avete lavorato fortissimo per fare questo grande regalo alla nostra gente, alla nostra zona. E andate tutti alla mostra il 26 gennaio alla Villa Pat. Io purtroppo non posso andare, però voi sì. E allora andate. Auguri a tutti, grazie e auguro un grande, grande successo. Allora ciao, a presto, ciao! Grazie a tutti.